Ci ha riprovato di nuovo anche oggi e di nuovo stesso tipo di discorso dell'altra giorno, cioè subito dopo il raggiungimento dei massimi storici ATH raggiunti sul grafico di TradingView per quanto riguarda Bitcoin con il massimo addirittura a 70.055 dollari più alto del precedente che era stato visualizzato. Questo è il grafico index di TradingView, una media di tutti i prezzi quelli dei exchange in generale, quindi non è riferito a un unico exchange, comunque siamo arrivati per la prima volta al raggiungimento dei 70.000 toccati, sdelisciati e di nuovo flash crash che però sembra durato poco al momento. Vi faccio vedere un po' il remake di quello che era stato e che era venuto l'altra volta, quindi touch del massimo storico flash crash che però sembra questa volta non aver preso piede come il precedente. Il precedente touch flash crash poi è durato diciamo tantissimo, insomma i miei disegni con il mouse sono terribili. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, vi avevo promesso di mostrarvi come andare a calcolare il target price o possibili livelli di resistenza per un asset finanziario che se ne va in ATH e lo facciamo nel video di oggi. Per chi ancora non avesse messo il mi piace su questo video è costretto a farlo qui perché ragazzi dovete mettere mi piace su questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lancio la moneta perché se non mettete mi piace, facciamo così, buon diciamo meridionale, meridione, se non mettete il mi piace su questo video non andiamo sopra 70.000 dollari. L'ho detto ragazzi, vabbè, la moneta oggi dice che non si sale ragazzi, quindi vabbè, io non lo so se ci devo credere, però ieri e l'altro giorno dicevo che si saliva e insomma ha avuto ragione, ma stavolta ha detto non si sale, adesso vediamo. Va bene ragazzi, allora detto questo, prima di andare avanti rispondo a due semplici domande che mi hanno fatto alcuni utenti per quanto riguarda l'exchange Primix e BT che vi ho mostrato l'altra volta, un exchange che è rinato dopo, diciamo, alcuni aggiustamenti in Italia non era più visibile, il sito è diventato visibile. Ovviamente sono exchange abbastanza particolari ragazzi, quindi bisogna sempre stare molto attenti a questo tipo di exchange, ma sono molto molto utili per alcune cose, per esempio per quanto riguarda la tipologia degli ordini sui CFD e anche sui vari future per la questione delle commissioni. Ora vi dico subito un po', alcuni di voi mi hanno mandato una semplice domanda per dirmi Mauro, ma perché questi exchange? Questi sono exchange che ci consentono di fare alcune cose, intanto per l'operatività che il che vuoi sì non è sempre richiesto, eccetera, è richiesto ovviamente in questo caso perché ci sono dovuti adattare la normativa, però non per tutte le operazioni, quindi insomma potete diciamo testare le varie cose, ma poi e soprattutto per una questione legata alla velocità della piattaforma e alle fee, ragazzi tutto qui, insomma a livello appunto di trading il conto CryptoFuture ha delle fee che sono un terzo, un terzo sia di BitGet sia di Bybit, quindi sostanzialmente è molto basso a livello di transaction fee. Perciò se io devo andare a fare una serie di operazioni abbastanza veloci, una serie di trade molto veloci, avendo una leva alta, avendo le fee molto basse, risparmio, risparmio un terzo, cioè pago un terzo ogni operazione ragazzi, veramente tanto eh, vi assicuro perché voi quando utilizzate la leva finanziaria poi questo tipo di questioni vengono meno. Quindi ovviamente questi sono ehm tipologie di exchange adatti a chi vuole fare questo tipo di di operatività, per esempio qui vi faccio vedere quello che è la eh il grafico per esempio di eh di Bitcoin in questo momento eh e insomma si può tranquillamente andare a inserire per esempio una tipologia di leva isolata o cross eccetera, qui la eh andiamo a modificare in tanti modi. Insomma sono operativi ecco, sono degli exchange che ci permettono di fare alcune cosette. C'è anche la questione legata per esempio al global market dei CFD che io eh ho sempre amato di questa piattaforma. C'è la possibilità con i CFD di poter investire anche su eh gli indici di borsa. eh ok utilizzando cosa? Il nostro balance è quello presente all'interno di questo account. C'è l'account non per i future io in questo momento ho un milio dollari sul balance dei future eh non ce l'ho su questo normale però in questo caso possiamo anche fare un po' di operazioni simultanee. ci sono le comodi ci sono gli indici di borsa eccetera. Eh al di là di questo ovviamente vi lascio il link in descrizione per questo sponsor di oggi con lo sconto e e la promo dedicata cioè quella del venti per cento del welcome bonus più eh alcune tasche che potete andare a completare fino a raggiungere diciamo eh ehm dei insomma dei reward sui depositi che andate a mettere. eh lo consiglierei a chi fa trading molto veloce a chi vuole una piattaforma bella reattiva e soprattutto vuole fare tante cose eh con un po' che commissioni su questo è in maniera molto semplice la piattaforma è veramente semplice mi consente anche di mettere degli ordini abbastanza particolari ordini sui grafici si muove meglio di alcune altre piattaforme da questo punto di vista perché nasce come piattaforma CFD e si vede questa cosa eh qui ovviamente valgono tutte le considerazioni sulla sicurezza che sempre abbiamo avuto sono dei eh eh broker ragazzi che comunque sono eh non mi fit due eccetera insomma questo lo sapete dovete fare i calcoli con i rischi insomma che ci sono legati al deposito eh su questi broker e non dire che mi dilungo lo sappiamo tutti abbiamo visto mille fallimenti nel settore delle criptovalute quindi il rischio dovete metterlo in conto da questo punto di vista. la leva alta però ci consente di usare poco capitale e magari lasciare poi in ehm e in wallet quello che è il capitale nostro insomma che vogliamo magari andare a eh detenere in maniera un pochettino più sicura. Eh detto questo lascio il link in descrizione come dicevo passiamo al video e vi parlo della questione legata alla eh eh previsione così tra virgolette possiamo dire all'utilizzo di quello che è un indicatore che ci consente di poter andare a fare il eh il pelo a bitcoin anche se se ne va in ath e andarci poi a indicare eventualmente quelle che sono eh determinati livelli di eh di di target. Intanto tolgo vari disegni che avevo fatto nei video precedenti. allora il l'indicatore in questione è eh che andremo utilizzare è quello di Fibonacci perché è il più semplice di tutti e può essere utile in questo contesto però mi preme farvi un ragionamento. Intanto non utilizzeremo i ritracciamenti di Fibonacci ma utilizzeremo le estensioni di Fibonacci in questo contesto. Poi però c'è da dire allora molti dicono l'analisi tecnica non funziona eh perché è difficile utilizzare bene l'analisi tecnica. Questo è il problema cioè non basta leggere due cosette sapere che cosa fa un indicatore allora vuol dire che la so usare. No ragazzi perché è uno strumento come può essere per esempio una matita tra le altre cose questa è una matita di Dubai ragazzi. Questo è il Museum of the Future di Dubai. Bellissimo insomma era veramente figo. Allora una matita eh ok è una matita questo è l'indicatore però come utilizzarlo? Se io con questa ci scrivo la Divina Commedia o eh ci metto su due versi per pubblicizzare le patatine eh dipende da me questo no? E cioè è l'analista che utilizza il l'indicatore che utilizza l'analisi che deve essere bravo non l'analisi che deve essere impeccabile. Nonno eh bisogna far confusione fra una eh mezzo che noi abbiamo uno strumento che noi abbiamo e l'utilizzo di quello strumento. Lo strumento è uno strumento quindi non è che può essere uno strumento che io siccome ho utilizzato e ho letto sul blocchettino gratuito che si usa in quel modo adesso sono un esperto di analisi tecnica. Cioè ma dico io no? Come mi viene in mente una cosa del genere no? Studiamo 84 anni per scrivere un riassuntino e un tema e se fate un'università una tesi di laurea che adesso sono anche ridicole quelle nuove cioè no quelle piccoli insomma ridicole no dipende come la fai anche quella. Però ti voglio dire cioè studiamo 20 anni per queste cose e poi leggiamo una cosa l'analisi tecnica. No ragazzi l'analisi tecnica è importante comprendere il significato degli strumenti e quindi poi andare noi a specificare come utilizzare quegli strumenti a rendere quegli strumenti utili per quello che serve a noi. Ora in questo contesto le estensioni di Fibonacci perché punto primo le estensioni di Fibonacci sono un modo di utilizzare un indicatore che deriva dalla sequenza di Fibonacci deriva da lì. Quindi la questione è che questo tipo di indicatore non ha un fondamento in base alla logica per esempio della price action seppur dipende dalla price action ma ha un fondamento sulla ripetitività di quelli che possono essere strutture probabilmente cicliche di espansione riduzione della volatilità o della animosità quindi emotività degli investitori. In pratica Fibonacci ci dà un'idea generale della ripetitività come è la sua sequenza e del fatto che l'arrivo a determinati livelli è percepito spesso come un eccesso da parte del mercato che ha raggiunto quel determinato livello. Quindi utilizzare questo indicatore di Fibonacci così come quando utilizziamo i ritracciamenti vuol dire ragionare in termini di eccesso. Cioè io dico quello è il livello di resistenza in questo caso perché quel livello di resistenza genererà un eccesso che dipende da cosa? Dalla volatilità o la natura ciclica del mercato o dall'atteggiamento riflessivo da parte degli investitori. Cioè significa la parte emotiva degli investitori. Quindi non è collegato in nessun modo alla parte fondamentale cioè l'afflusso di liquidità per esempio su un asset dovuto alle emissioni degli ETF che vanno a emettere quote di ETF e comprano Bitcoin spot. Quindi questa variabile non c'è nelle indicazioni di Fibonacci. Fibonacci ragiona in maniera statica, è una ripetitività ed è legata al movimento dei prezzi, della volatilità dei prezzi e basta. Quindi io so quello che deve andare a indicarmi. Cioè mi deve dare degli eccessi, dei punti dove io presumibilmente ragiono e dico. La stragrande maggioranza degli investitori, dei trader in questa fase magari dice prendo profitto, insomma raggiunge un livello di riposo per una questione appunto di ripetitività della struttura ciclica e questo avviene assolutamente in maniera tecnica. Fatta questa premessa posso andare a utilizzare Fibonacci in un certo modo perché ne ho comprensione di quello che va a fare. E quindi so che non è un indicatore che si basa su una scienza esatta, è un indicatore che mi va a replicare questo tipo di atteggiamento. Può essere utile però in Price Discovery perché? Perché c'è magari un eccesso emotivo da parte degli investitori, non si ragiona più di dati materiali, dati statistici, dati naturali che poi ovviamente su Bitcoin ce ne sono un po'. A proposito ragazzi, nel short di ieri ho fatto incavolare un po' di gente con la questione dello spiegamento di una delle prime bolle tecnologiche del mondo, ma mi piaceva farvi questi tipi di argomenti e ne verranno altre, non per mettere in discussione le cripto, tant'è vero che c'è anche la seconda parte di quel short che verrà pubblicato a breve, che parla appunto della questione delle quattro regole per distinguere una bolla che Bitcoin sembra non avere. Questo è lo spoilerone, però era figo, era troppo che io, però sono sicuro che quello di voi si è interposito. Vabbè, allora detto questo andiamo ad applicare questo indicatore, come si fa. Allora intanto TradingView, secondo tab, se non lo spostano quando poi vedete il video, se no andatelo a cercare, estensioni di Fibonacci. Per l'estensione di Fibonacci noi abbiamo bisogno di tre punti. I tre punti che noi dobbiamo avere per un'estensione di Fibonacci sono legati a questo. Ve lo faccio vedere su questa parte vuota, cioè noi dobbiamo avere un primo trend, quindi che definiremo il trend che va da A a B, e poi dobbiamo avere un secondo trend che deve andare da B a C. Per tracciare le estensioni dobbiamo avere questo movimento. Queste sono estensioni che saranno per movimenti al rialzo. Se invece io ragiono al contrario, dovrò avere un ragionamento così, da A a B, poi da B a C e via così. Cioè, quindi queste invece saranno estensioni al ribasso. Quindi noi oggi andiamo a trattare invece le estensioni di Fibonacci di natura rialzista e dobbiamo avere un trend iniziale, poi dobbiamo avere la fase di ribasso, quindi di correzione swing opposto, e da lì possiamo tirare quelle che sono le eventuali estensioni. Ora, l'unico trend attualmente che noi abbiamo che può essere identificato come un evento correttivo del trend in questione è questa fase qui. Poi, innanzitutto, dobbiamo prendere il trend che stiamo valutando, quindi è questo il trend che stiamo valutando, non è quello precedente. Seppur, seppur ragazzi, noi potremmo anche valutare, e poi magari lo facciamo, un'estensione di Fibonacci che parta come correzione di questo trend qui. E quindi qui il bear market sarebbe un'ipotesi di correzione di questo trend, in modo da indicarci qui dove andiamo a finire. Quindi facciamo entrambe queste due ipotesi, entrambi questi due valori. Quindi, prima cosa, valutiamo questo trend, che è un trend più piccolo del precedente, usiamo quindi il time frame daily, non andiamo su un time frame più alto, ci posizioniamo qui, andiamo a tirare sul massimo il primo livello, dopodiché scendiamo al minimo di questo swing, e poi io mi tiro la parte verso destra per avere i livelli e da da, qui sono elencati i livelli di Fibonacci con le estensioni. Facciamo così, in modo tale da farvi vedere molto meglio quello che è il grafico, vado a cercarne uno pulito, in un work pulito, esattamente, eccolo qui, di Bitcoin, così non abbiamo la visione proprio di nulla sul grafico e si vede molto, 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 molto meglio. Allora, intanto qui manca un log, eccolo qui. Detto questo, andiamoci a riprendere i livelli di estensione di Fibonacci e rifacciamo lo stesso tipo di ragionamento qui. Un attimo. Allora, andiamo qui, ragazzi. Allora, ci prendiamo il minimo, ce ne andiamo sul massimo, ce ne andiamo sul livello di correzione, e ci tiriamo quelli che sono i livelli di estensione. Intanto, giusto per farvi notare, questi tipi di livelli di estensione valevano per tutta questa fase rialzista che Bitcoin sta subendo in questo momento, sta, diciamo, facendo in questo momento. Guardate come i livelli di Fibonacci hanno agito tutto sommato come strutture di, in blocco delle fasi impulsive. Per esempio, abbiamo lo 0.618 di estensione, poi abbiamo lo 0.786 che è stato il livello di resistenza, proprio l'ha indicato. Dopodiché, sopra 1, invece, abbiamo avuto tutto questo excursion e solo qui abbiamo l'1.61.8 come estensione che ha avuto una leggera resistenza. Andiamo a vedere attualmente dove siamo. Siamo sul secondo livello, 2.61.8, che è un altro livello che sta facendo resistenza. Guardatelo come è impostato a un'altra cosa. I livelli di Fibonacci non si utilizzano a dollaro, ragazzi, non si utilizzano a livello preciso, perché è un errore. Questo è un indicatore di natura qualitativa, non è quantitativa. Non è un indicatore che vi dice il prezzo preciso, perché ve l'ho spiegato. Si basa su ripetitività cicliche, su atteggiamenti emotivi, quasi sempre, degli investitori. Perciò va considerato nella sua entità come struttura, come aria, come zona, non come livello preciso. I livelli precisi, per esempio, li possiamo ottenere quando andiamo a utilizzare un massimo o un minimo di una candela, non il livello di Fibonacci. Detto ciò, io non utilizzo neanche sulla price action, quindi figuriamoci. I livelli di Fibonacci, vabbè. Allora, il secondo livello, e abbiamo un primo target, in questo caso secondo Fibbo. Se questo 2.61,8 venisse meno, come è stato qui, l'accelerazione, guardate, come è stata repentina, e immaginiamo una cosa similare, ci porterebbe al primo livello di resistenza, che è in zona 83.000 dollari. 83.000 e qualcosa in zona. E questo, ragazzi, è il primo livello di Fibonacci, da un punto di vista di resistenza, e poi il successivo livello 93.3. Poi cosa succede, ragazzi? Oltre questo non c'è niente, no, in questo caso no, dobbiamo utilizzare l'altro sistema, però qui c'è una cosa che va specificata, in questo caso. Cioè, va detta una cosa, noi non abbiamo ancora avuto un ritracciamento degno di nota, ma se ci sarà, per esempio, un ritracciamento degno di nota, dopodiché si potrà utilizzare l'estensione di Fibonacci andando a utilizzare il nuovo ritracciamento. Ecco, quindi qui al momento abbiamo questo tipo di livelli. Quindi, primo target delineato secondo l'estensione di Fibonacci, i 83 è qualcosa, secondo target addirittura 93 è qualcosa. Facciamo l'applicazione di questo tipo di indicatore per utilizzarlo, per avere aree di resistenza indicative, e lo utilizziamo però maxi questa volta, sul maxi ciclo, quello iniziato nel 2018, con il minimo del 2018, e che ha fatto la sua fase di correzione con il bear market del 22. E vediamo cosa tiriamo fuori. Cioè, io vado qui in pratica, vedete, all'inizio del 2018, vado a inserire il mio livello, vado a inserire questa zona sul massimo del 2021, quello lì, e dopodiché vado al minimo del livello del 2022, novembre 2022, alla fine del bear market, e questo è quello che ottengo. Invece in versione un po' più delineata, quindi migliore, da alcuni punti di vista. Abbiamo un primo livello, è quello attuale, cioè lo 0,786, che è pari a 68.002, quindi aria 70.000 dollari, quella che sta facendo resistenza. In questo momento, successivamente abbiamo 82.6, quindi aria 83.000 dollari, e poi ragazzi 123.000 dollari. 123.000 dollari perché? Perché in realtà questo, io lo sto dicendo in questo modo, perché è un numero che vi ho buttato già un po' di tempo fa, l'ho inserito un po' su tweet, vi ho fatto un video dove indicavo che può essere raggiunto questo tipo di livello, se la bull continua, gli ETF non smettono di comprare, può essere raggiunto anche con un certo tipo di possibilità non così strana, in questa fase di bull run di Bitcoin. Ovviamente parliamo di previsioni, quindi prendetela fra le virgolette, lo so l'ultima era giusta, però quella degli anni scorsi, però non è che, insomma, qui abbiamo la palla di vetro, questo lo sapete. Queste sono logiche che andiamo ad applicare e può essere che possa venire raggiunta una cosa del genere. Ovviamente vedremo quello che succede se superiamo questa zona di resistenza, per esempio, la prossima sarà effettivamente 82 o non si ferma prima. Quindi questa è il prossimo area, poi qui abbiamo livelli di cui non voglio parlarvi perché sono scaramatico, vabbè, circa 190.000, 257.000 e 300.000 dollari, l'ultimo livello di estensione di Fibonacci. Ma facciamo una cosa, proviamo un giochino del 9 andando ad applicare questo tipo di logica al dato passato per vedere un po' che cosa effettivamente era successo. Quindi se io vado a strutturarmi una roba del genere e la vado ad applicare alla precedente fase e dico ok, qui era avvenuta una roba così, poi c'era stato il bear market qui, ma questi livelli sono stati giusti? Quelli che abbiamo raggiunto precedentemente, quali sono stati? Bam 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 ragazzi, guardate qui quello che è successo. Allora, nella fase precedente, facendo lo stesso calcolo, ce l'avevamo fermato prima a 0.5 come fase di estensione, dopodiché questa zona ha causato pochissima resistenza, quasi niente, l'unica resistenza che è nella bolla del 2021, diciamo così, Burran 2021, più che bolla, è più corretto dire Burran, abbiamo raggiunto il 2.61.8 e poi il 3.61.8 in questa zona è finita così, è giusto per spiegare ragazzi, siamo al 3.61.8, ciò significa che se la struttura che noi abbiamo avuto in questa fase si replicherebbe, si potrebbe diciamo replicare, replicherebbe, scusate ragazzi, mi stavo incartando con l'indicatore, eccolo qui, faccio danni, nello stesso identico modo potremmo avere il raggiungimento di questo livello che era il 3.61.8 addirittura 258.000 dollari, vi faccio rivedere giusto la questione, era fatto più o meno così ed eravamo arrivati pronti al 3.71.8, quindi teoricamente, dovrebbe essere ripetisi nello stesso modo, questa cosa potrebbe vedere un'accelerazione del genere fino a questo addirittura livello che è altissimo, secondo me è un po' eccessivo, perché poi c'è nella passare degli anni una serie di cambiamenti notevoli anche nell'atteggiamento di Bitcoin e di estensioni di rialzo. Fermo restando che questo indicatore, come vi dicevo, non ha ripetitività, non si basa su dati fondamentali e quindi dobbiamo sempre andare a inserire tutto quello che è il contesto di natura fondamentale, non sono consigli finanziari, è chiaramente un uso di un indicatore fatto in una maniera corretta, ciò non significa che andiamo lì, ciò significa che questo indicatore vi sta dando delle indicazioni, va bene, non vi sta dicendo a livello di 250.000 dollari, vi sta dando dei livelli di resistenza che sono oggettivamente raggiungibili, li abbiamo calcolati nella prima parte, quelli più brevi, e poi nella seconda parte, quelli più lunghi. Ovviamente, aria 83 resta in entrambe le due visioni, quindi potrebbe in effetti essere l'aria finale di questa fase di topping prima di una correzione magari più importante, sì, dovremmo però andare poi a vedere se effettivamente il prezzo intanto ci arriva e se poi lì si ferma, chiaramente. Quindi, detto questo, spero di esservi spiegato, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, questo è un indicatore interessante che potete mettervi in saccoccia e utilizzare nei prossimi giorni. Ovviamente, spero di avervi rispiegato, sottolineo per la decima volta, come questi indicatori vanno utilizzati, non come palle di vetro, ma come logiche per avere dei dati sui quali noi possiamo andare a riflettere. Ecco, palle di vetro, io chiuderei il video con questa frase perché mi è venuto lo scomporto. Vabbè, allora, ciao a tutti e buon weekend! 70.000 superati domenica, sabato e domenica. Voi che dite? Scommessona! Ciao!